3-0 in alto, campione d'Italia per la stagione 2023-2024. Let's go! 3-0. Le ragazze di Coach Mazzon si sono imposte anche a Schio, conquistando partita, serie e scudetto. Il quarto titolo nazionale della storia, tre scudetti, una Coppa Italia. Un obiettivo che la squadra ha seguito giorno dopo giorno dall'inizio. Primi dall'inizio, primi alla fine, chiaramente nessuna sconfitta ai play-off. Ci eravamo dati un obiettivo, speravamo di realizzarlo e abbiamo fatto un grande lavoro. Sono felicissima, ho lavorato tutto l'anno, è stato bellissimo e niente, sono troppo felice. Siamo un gruppo molto unito e penso che l'abbiamo dimostrato quando c'erano i momenti difficili. Ci siamo strette assieme e abbiamo reagito. E con la tenacia che caratterizza la squadra ce l'hanno fatta. Difficile nascondere la commozione per Coach Mazzon. Se siamo qua è perché c'è stato un aiuto immenso dietro la squadra e realmente la società ha fatto un lavoro maniacale su tanti dettagli. E non ultimo il recupero fisico di Santucci e di Kubai e sono davvero felice. E poi anche una cosa che mi dispiace molto, che aveva 39 di febbre oggi, ma Gaia Gorini non è qua, perché un pezzo di questo è anche suo. L'Umana Reier celebrerà il titolo nazionale a Venezia giovedì mattina con la tradizionale parata sulle gondole.